buongiorno non so se per noi non è un gran giorno comunque oggi 13 settembre vengo a fare le ultime piccole cose al capanno visto che se avremo fortuna domenica e almeno lunedì riusciremo andare a caccia ma purtroppo sorpresa qualche nostro non amico o forse nemico è venuto a farci visita stanotte e anni di lavoro e giorni di passione stanno andando ancora in fumo si sono divertiti questa notte a venire a fare esplodere con le bombole il capanno adesso vediamo le anatre che sicuramente le avranno liberate perché loro sono per gli animali liberi e i cacciatori morti vediamo e tranquillamente tranquillamente non c'è più neanche un'anatra fuoco che viene da tutte le parti hanno buttato due bombole di gas dentro quindi potete ben vedere quello che è rimasto si fanno chiamare animalisti si fanno chiamare ambientalisti questo per l'ambiente non è non è niente importante che siano ambientalisti animalisti io sinceramente c'è un nome diverso per chiamarli meglio che non lo dico perché magari qualcuno si imbarazza non so sicuramente non ho commenti da fare penso che si possa vedere va bene andato così grazie grazie grazie